Giornata nazionale dello sport che verrà ospitata nel comune di Arezzo domenica prossima. Promossa dal CONI in collaborazione col comune di Arezzo è una giornata volta a sottolineare le iniziative che legano questa città e lo sport, che sono numerosissime, ma soprattutto la cultura che sta dietro l'esperienza e le dinamiche sportive. Quindi valorizzeremo tre aspetti fondamentali, di cui uno in particolare, che si terrà proprio al centro affari e che è la declinazione dello sport motoristico secondo però le dinamiche della sicurezza stradale. Quindi la volontà di sottolineare come lo sport è certo sport, ma è prima di tutto cultura e un modo di essere un veicolo di educazione civica consapevole. Quindi ecco questa giornata che abbiamo visto, queste tre giornate, anzi presentare proprio ieri, si inseriranno in quest'altra manifestazione sostanzialmente? Si inseriscono per volontà del CONI e anche mia per dimostrare come lo sport è veicolo di molte esperienze e il rispetto di sé e degli altri è la prima esperienza di quello sport è veicolo. Quindi certamente altre manifestazioni segneranno la giornata, tutte importanti. Questa in qualche modo sancisce un po' sacramento un po' la giornata perché è quella che ci permette di trovare la connessione maggiore tra lo sport e l'educazione civica.